Siamo notati Gesù e Maria, da Maria Madreana negli scritti di Maria Valtorta, 24esima puntata, la prodigiosa risurrezione di Lanzaro. Riprendo la lettura da dove ci siamo fermati la volta scorsa abbiamo appunto Gesù che sta proprio dinanzi alla tomba di Lanzaro, è già scoppiato in pianto, sia lui che le sorelle, quindi è in procinto di fare il miracolo che tutti conosciamo e che adesso andremo a leggere. Levate quella pietra, grida Gesù ad un tratto dopo aver asciugato il suo pianto. Tutti hanno un movimento di stupore e un mormorio scorre per l'assembramento che si è aumentato di alcuni betaniti che sono entrati nel giardino e si sono accodati agli ospiti. Vedo alcuni farisei che si toccano la fronte scuotendo il capo come per dire è pazzo. Nessuno esegue l'ordine, anche nei più fedeli via della titubanza, della ripuzione a farlo. Gesù ripete più forte il suo ordine facendo sbigottire più ancora la gente che presa da due sentimenti opposti ha un movimento come per fuggire e subito dopo uno di accostarsi di più per vedere sfidando il prossimo fetore del sepulcro che Gesù vuole aperto. Maestro non è possibile, dice Marta, sforzandosi di trattenere il pianto per parlare. Già da quattro giorni è là sotto e tu sai di che male è morto. Solo il nostro amore lo poteva curare. Ora certo egli puzza già fortemente nonostante gli unguenti. Che vuoi vedere? La sua putredine non si può anche per l'impurità della corruzione e non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio. Levate quella pietra. Lo voglio. È un grido di volere divino. Un oh sommesso esce da tutti i petti. I volti si sbiadiscono. Qualcuno trema come se fosse passato su tutti un vento gelido di morte. Marta fa un cenno a Massimino e questo ordina ai serbi di prendere gli arnesi atti a smuovere la pietra pesante. I serbi vanno via resti per tornare con picconi e leve robuste. E lavorano insinuando le punte dei picconi lucenti tra la roccia e la pietra e poscia sostituendo i picconi con le leve robuste e infine sollevando attenti la pietra facendola scivolare da un lato e strascicandola poi cautamente contro la parete rocciosa. Un fetore ammorbante esce dal cunicolo scuro facendo arretrare tutti. Marta chiede sottovoce. Maestro vuoi scendere là? Se sì occorrono delle torce ma è lipida il pensiero di doverlo fare. Gesù non le risponde. Alza gli occhi al padre. Apre le braccia a croce e prega con voce fortissima scandendo le parole. Padre io ti ringrazio di avermi esaudito. Lo sapevo che tu mi esaudisci sempre. Ma l'ho detto per questi che sono qui presenti perché credano in te, in me e che tu mi hai mandato. Resta ancora così qualche momento e pare rapito in una estasi tanto è trasfigurato mentre senza più suono dice altre segrete parole di preghiera o di adorazione. Non so. Quello che so è che è così trasumanato che non lo si può guardare senza sentirsi tremare il cuore in petto. Sembra farsi da corpo luce, spiritualizzarsi, alzarsi di statura e anche da terra. Pur conservando i suoi colori di capelli, occhi, pelle, vesti, quindi non come durante la trasfigurazione del tambor durante la quale tutto divenne luce candore abbagliante, pare tuttavia emanare luce e tutto di lui divenire luce. La luce pare fargli un alune intorno, specie intorno al volto levato al cielo, rapito in contemplazione certo del pare. Sta così qualche tempo, poi torna lui, l'uomo, ma di una maestà potente. Si avanza siano alla soglia del sepolcro, sposta le braccia che fino a quel momento aveva tenuto aperte a croce, a palme volte verso al cielo. In avanti, a palme verso terra, le mani sono perciò già dentro al cunicolo del sepolcro e biancheggiano nella nerezza che colma il cunicolo. Egli sprofonda il fuoco azzurro dei suoi occhi, il cui bagliore di miracolo è oggi insostenibile in quella nerezza muta. E con voce potente, con un grido più forte di quando sul lago comandò al vento di cadere, con una voce quale nessun miracolo gli ho sentito, grida. Lazzaro, vieni fuori! La voce si ripercuote per eco nel cavo sepolcrale e si spande uscendone poi per tutto il giardino, si ripercuote contro i dislivelli dell'ondilazione di Tibetania. Io credo che vada siano le prime valse collinose oltre i campi e di latorni, ripetuta e sommessa, come comando che non può cadere. Certo è che da infinite parti si riode fuori, fuori, fuori. Tutti hanno un più intenso brivido e se la curiosità inchioda tutti ai loro posti, i volti sbiancano e gli occhi si spalancano, mentre le bocche si socchiudono involontariamente con l'urlo dello stupore già nella strozza. Marta un poco indietro e di fianco è come affascinata a guardare Gesù. Maria cade in ginocchio, lei che non si è mai scostata dal suo maestro. Cade in ginocchio sul limitare del sepolcro, una mano sul petto a frenare i palpiti del cuore, l'altra che inconsciamente e convulsamente tiene un lembo del mantello di Gesù. E si capisce che trema perché il mantello ha lievi scosse impresse dalla mano che lo tiene. Un chedi bianco pare emergere dal fondo profondo del cunicolo. Prima è appena una piccola linea convessa, poi si mute nonché di ovale, poi all'ovale si sottopongono linee più ampie, più lunghe, sempre più lunghe. E il già morto, stretto nelle sue fasce, viene avanti lentamente, sempre più visibile, fantomatico, impressionante. Gesù arretra, arretra insensibilmente ma continuamente più quello avanza. La distanza fra i due è perciò sempre uguale. Maria è costretta a lasciare il lembo del manto, ma non si muove da dove è. La gioia, l'emozione, tutto la inchiodano al posto dove era. Un oh sempre più netto esce dalle gole chiuse, prima da uno spasimo di attesa, da sussurro appena distinto, si mute in una voce, da voce in un grido potente. Lazzaro è ormai sublimitare e si ferma là, rigido, muto, simile ad una statua di gesso appena sbozzata, perciò informe. Una lunga cosa, sottile nel capo, sottile nelle gambe, più larga nel tronco, macabra come la morte stessa, spettrale nel cuore delle fasce contro lo sfondo scuro del sepolcro. Al sole che lo investe, le fasce appaiono qua e là già colanti putredini. Gesù grida forte, scioglietelo e lasciatelo andare, dategli vesti e cibo. Maestro, dice Marta, e vorrebbe forse dire di più, ma Gesù la guarda fisso, soggiogandola col suo fulgito sguardo e dice, qui, subito, portate una veste, vestitelo alla presenza di tutti e dategli da mangiare. Ordina e non si volge mai a guardare chi ha alle spalle intorno. Il suo occhio guarda soltanto Lazzaro, Maria che è vicino al risorto, incurante del librezzo che danno a tutti le bende marciose, e Marta che ansima come se ne scoppiasse il cuore e non sa gridare la sua gioia o piange, o se piangere. Allora, farei una prima piccola pausa, proprio facendo notare un certo stile, potremmo chiamarlo così, dell'agire di Dio. Gesù sta facendo il miracolo più importante certamente della sua vita. È l'ultimo dei miracoli fatti in vita e di quelli visibili, ma non è l'ultimo in assoluto, perché l'ultimo miracolo in assoluto di Gesù non è la risoluzione di Lazzaro, ma è la conversione del buon ladrone in croce. Così come il primo miracolo di Gesù non è stato alle nozze di Cana, che è più un miracolo visibile, ma l'ha fatto appena c'è, prima di nascere, dal grembo della madre che quando ha visitato Santa Elisabetta ha fatto sussultare San Giovanni nel grembo di Santa Elisabetta perché gli ha tolto il peccato originale. I miracoli più grandi che il Signore fa sono quelli spirituali, non quelli materiali, però ha fatto anche quelli materiali, perché quelli materiali colpiscono i nostri sensi e sono inoltre l'attestazione suprema, direi incontrovertibile della sua divinità. Cioè, dobbiamo cercare bene di capire, noi dobbiamo capire, perché queste stesse identiche cose il Signore le fa nella vita di tutti noi, di tutti noi, nessuna scusa. Noi non vedremo la risurrezione di Lanzaro. Perché dico questo? Allora, la fede è una cosa bella, la fede è una cosa grande, ma la fede poggia su dei segni solidi che il Signore stesso ci dona. San Pietro scrive nelle sue lettere, guardate che noi non è che per essere andati dietro a fole o a favore inventare dagli uomini noi vi abbiamo annunciato Gesù Cristo e dà la sua testimonianza personale. Io ero sul tabor, io l'ho visto con gli occhi miei trasfigurato, ma che volete da me? L'ho visto con gli occhi ed è per questo che ve lo annuncio. Camminiamo verso la Pasqua, questi dodici cristiani, anzi undici, scrive San Giovanni Crisosto, dice ma com'è possibile? Questi erano una banda di primi letterati, ma che figura hanno fatto durante la Passione? Che figura hanno fatto? Uno l'ha tradito e si è ammazzato, il capo l'ha rinnegato tre volte, tutti gli altri sono scappati, solo San Giovanni si è ripreso e andava sotto il sepolcro. Allora, questi qui, dopo la resurrezione che succede, diventano dei leoni che vanno in giro in tutto il mondo a parlare di Gesù Cristo, che non erano stati capaci di difenderlo in vita e di essergli fedeli in vita, e muoiono tutti i martiri, o i boh, ma che sarà successo? Sono le stesse persone. Negli atti degli apostoli vediamo quegli stessi che sono scappati come conigli, come lepri, la notte del Getsemani, affrontare i sommi sacerdoti, beccarsi le flagellazioni, le minacce, guardate che la prossima volta che vi troviamo a predicare gli faremo peggio di questa volta, e quelli vanno e predicano peggio di prima. Nel giro di un mese, nemmeno dalla resurrezione di Razzaro alla predicazione degli apostoli, un mese forse un pochino di più, due mesi, 40 giorni dopo l'ascensione, 50 alla Pentecoste, questo è venuto un mesetto prima della Passione? forse no, forse anche meno, è stato l'ultimo, il più strepitoso, proprio a ridosso, perché dinanzi a questo, zitti tutti, Gesù ha fatto soffrire indicibilmente il suo miglior amico, lasciandolo morire. Le anime a lui, certamente tra le più care, Maria di Magdala, è l'emblema della grande peccatrice convertita, vedremo più avanti, che cosa è capace di dirle. Le ha fatte soffrire, perché doveva fare questa cosa, esattamente come l'ha fatto, cioè è tutto studiato nei minimi dettagli. Avete visto Gesù? Quelle cose che dicevano nel Vangelo ti ringrazio padre, le ha dette ad alta voce, tutti devono sentire quello che sta dicendo. lo andiamo a rivedere, tanto c'è scritto nel Vangelo. Padre io ti ringrazio di avermi esaudito, lo sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma l'ho detto per questi che sono qui presenti, quindi ascoltate bene, per il popolo che mi circonda, perché credano in te e in me e che tu mi hai mandato. questo è il segno dei segni, questo qui, il più grande, inequivocabile, la puzza, l'hanno sentita in tanti. Avete visto nelle puntate precedenti la gente che era andata a verificare, a vedere prima che stava male, perché era morto, quindi di per sé. Ma che cosa vogliamo fare? E la cosa sconvolgente, e questa deve farci pensare, deve farci per certi aspetti scusate, tremare, è che questi personaggi che stavano, che c'era tutto il fiorfiore del sinetrio e dei farisei, anziché fare mea colpa e dire a questo l'abbiamo perseguitato da tre anni a sta parte, gli abbiamo fatto vedere i sorci verdi, gli abbiamo dato il tormento, l'abbiamo spiato, stavamo a vedere, vediamo se fa il miracolo di sabato, così che andiamo a dire qualche cosa. Ma capite? Che cosa fanno? Finito questo? Ah, adesso questo dobbiamo farlo fuori, perché mo' questo pure risuscitato o morto, gli andrà dietro un sacco di gente, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? È veramente inqualificabile un atteggiamento del genere. E che cosa ci fa capire? Ci fa capire il mistero dell'indurimento del cuore, il mistero dell'iniquità. Ho detto, in questi giorni è tutto quanto così, tutto così. Proprio anche le letture delle messe dei giorni, sono tutti quanti i discorsi, diciamo così, di Gesù nel Vangelo di San Giovanni, che sono discorsi apologetici, cioè guardate che io sono il figlio di Dio. Se non mi volete credere, credete alle opere che ho fatto, perché le opere che ho fatto lo testimoniano di me. Voi sapete che in questa vita Dio non lo possiamo vedere e Dio non si manifesta mai in maniera, come dire, assolutamente incontrovertibile e inequivocabile. Dicevo oggi, durante un colloquio, se noi potessimo vedere con gli occhi, come lo vedono i nostri angeli custodi, se gli uomini potessero vedere, per esempio, quello che accade durante la messa, sapete cosa succederebbe? Ve lo dico io. Quanta gente c'è nel mondo? Sette miliardi e mezzo di persone? Quanti sono? Si convertirebbero tutti, tutti quanti. Tu dici, basta che dice una persona, guarda, vieni a messa, guarda quello che succede, guarda che c'è lì, si copertano tutti, tutti. Sarebbero tutti cristiani, cattolici e diventerebbero tutti santi. Tutti. Ma se questo accadesse, la nostra libertà andrebbe a farsi benedire. Noi non saremmo, non sceglieremmo il Signore con un atto libero, con un atto di amore e volontario. No, saremmo costretti, dinanzi, all'evidenza incontrovertibile. Non soltanto evidenza incontrovertibile, ma evidenza palese, schiacciante. Abbiamo avuto dei segni, però. Chi è che può dire, per esempio, in Italia, che non sa chi è padre Pio? Voglio proprio vedere chi è che in Italia può dire, padre Pio? Io non so manco chi sia. Magari qualcuno faccia anche il commento. Giusto? Ma secondo me a farsi un giretto su YouTube, vado a vedere la messa di padre Pio, vado a vedere i filmati. Ci sono. Quando celebrava, chi serviva la messa, a un certo punto, appena cominciava il prepazio, le piaghe delle mani cominciavano a sanguinare, ok? Quando levava l'ostia, rimaneva con quest'ostia in mano per diversi minuti. Allora? Che vogliamo fare? Certo, non hai visto quello che accade durante la messa. Lui sì che lo percepiva. lui lo viveva e lo ha lasciato scritto. Un testo poco trovabile, il diario che della sua vita ha lasciato la sua figlia spirituale prediletta, Dionice Morcaldi, la mia vita a fianco a padre Pio. Basta andare a vedere cosa ha scritto sulla messa di padre Pio. È un segno questo qui, no? Allora, non è inequivocabile, incontrovertibile, però ha un cuore aperto e dà un grande aiuto, eh? Così come i miracoli eucaristici di cui parlavo durante la monia di questa sera. I miracoli eucaristici il nostro Signore li ha voluti. Perché? Perché siccome lo sa bene che per noi è che non vediamo nulla, renderci conto di cosa accada durante la messa e di cosa sia l'eucaristia è abbastanza difficile, anche se la Chiesa lo sa e lo insegna in maniera perfettissima, però crederci senza nessun dubbio è un altro Signore che ti aiuta. Quindi, perché dico questo? ti aiuta in maniera, come dire, conforme, quindi da un lato lascia integra la tua libertà, però dall'altro lato ti fa fare quell'atto di fede e, insomma, non al buio. Non è un atto di fede al buio il nostro. E io continuo a ripetere, non è che i cristiani e quelli che hanno la fede sono cretini. La Bibbia dice il contrario. La Bibbia dice che i cretini dicono che Dio non esiste. I saggi dicono che Dio esiste. Quindi il Signore ti dà la possibilità di aderire a Lui attraverso dei segni forti, chiari, che interpellano la tua intelligenza e che dicono ma se questo ha risorto un morto di quattro giorni, ma chi è questo qui? Questa è la domanda che uno si deve porre. Chi è questo qui? C'è qualcuno che è capace di tirare fuori dal sepolcro un morto di quattro giorni allì fuori di Gesù Cristo? Lasciamo perdere, uno potrebbe dire ma io non c'ero, argomento dei cretini, perché queste cose sono state scritte nelle su bianco e non sono mai state smentite da nessuno, neanche a ridosso della loro scrittura. Ma chi c'era l'ha visto con gli occhi suoi? E noi dobbiamo interrogarci proprio in questi giorni che siamo nel tempo di passione, ma quale pazzia ha preso a questi qui che nonostante quello che hanno visto hanno fatto il ridotto per levarselo dai piedi e per farlo muovere di quella morte orrenda? Quale pazzia sarà mai questa? E non solo chiederselo, ma anche tremare un po', perché non è che noi siamo più savi di quelli, il cervello e il gatto ce lo potrebbero mangiare pure a noi, pure a me. Speriamo di no, ma potrebbe succedere. Quindi Gesù ha studiato tutto nei minimi dettagli e come ho detto in qualche maniera nei giorni scorsi, immaginate la faccia di quelli che poi l'hanno ammazzato. Quando sono morti, ma che cosa gli è successo? Tutti quanti questi spavaldoni, questi intelligentoni che fanno gli spavaldi, ma sapete che dobbiamo andare ultimamente fino al cimitero? Lo sappiamo questo qui. E che cosa è successo una volta che uno sta al cimitero? Vanno tutti in paradiso? Io personalmente, per carità, non voglio sostituirmi al Padre Eterno. Immagino che quelli più scalmanati, ne vedremo qualche rappresentazione più avanti che quando arriva la passione, il nostro signore gli era detto, tu puoi scalmanarti quanto vuoi, ma hai visto quello che avevo fatto? Te la sei fatta qualche domanda? O sei cieco? E queste stesse domande il nostro signore le farà a tutti, eh? A tutti. Proseguo. C'è qualcuno che fa domande da Instagram. Sto facendo una catechesi, quindi quando faccio una catechesi io non rispondo alle domande. Quando la catechesi finisce rispondo alle domande. Questa catechesi sta in onda su tre piattaforme, su YouTube, su Instagram e su TikTok. Al termine della catechesi, avrendo anche il canale Telegram, per chi vuole parlare in diretta, si potrà interlocuire. Adesso no. Io sto facendo una catechesi a tema, non posso interrompere quello che sto dicendo per andare a rispondere a domande che non c'entrano niente tra l'altro con la catechesi che stiamo facendo. Proseguo la lettura. I servi si affrettano ad eseguire. Noemi corre via per prima e per prima torna con le vesti che tiene a cavalcioni del braccio. Alcuni slegano i lacci delle fasce dopo essersi rimboccate le maniche e cinte le vesti perché non tocchino la putere di necolante. Marcella e Sara tornano con affore di odori, seguite da servi, chi con catini e brocche fumanti, d'acque calde, chi con vassoi, tazze colme di latte, vino di frutta, focacce coperte di miele. Le bende basse e lunghissime di lino, mi pare con le cimosse dai due lati, certo tessute per quell'uso e si srotolano come rotole di fettuccia da una grande bobina e si accumulano al suolo. Pesanti di aromi e di marciume. I servi le scansano usando dei bastoni. Hanno iniziato dal capo eppure anche là in marciume, certo scolato dal naso, dalle orecchie, dalla bocca. Il sudario messo sul volto è tutto zuppo di questi scoli e il volto di Nazaro che appare validissimo scheletrito, con gli occhi tenuti chiuse dalle manteche messe nelle orbite, con i capelli appiccicati e così pure la barbetta rada sul mentone e abbruttato. Cade lentamente il lenzuolo, la sindone messa intorno al corpo, man mano che le bende scendono, 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 liberando il tronco che avevano costretto per dei giorni rendendo forma umana ciò che prima avevano reso simile ad una grande crisalide. Le spalle ossute, le braccia scheletrite, le coste appena coperte di pelle, il ventre infossato, appaiono lentamente e man mano che le bende cadono, le sorelle, Massimino, i servi, si affannano a levare il primo strato di suddiciume di balsami e insistono sinché con acque sempre mutate e rese detergenti dagli aromi aggiunti alle acque la pelle non appare netta. Lazzaro quando gli liberano il volto e può guardare e dirige il suo sguardo a Gesù, prima ancora che le sorelle, si smemora e astrae da tutto ciò che viene nel guardare con un sorriso d'amore sulle labbra pallide e un lucidio di piante nell'occhiaio affonde il suo Gesù. Anche Gesù gli sorride e dà una lucentezza di pianto nell'angolo dell'occhio ma senza parlare dirige lo sguardo di Lazzaro al cielo e Lazzaro comprende e muove le labbra in una silenziosa preghiera. Capite no? Sta invitando Lazzaro a ringraziare il Dio del miracolo ricevuto. Marta crede che voglia dire qualcosa e ancora non abbia voce e chiede che mi dici Lazzaro mio? Nulla Marta. Ringraziavo l'altissimo. La pronuncia è sicura, forte la voce. La gente ha un nuovo di stupore. Ormai lo hanno liberatosi nei fianchi, liberato e pulito e possono rivestirlo della tunica corta, una specie di camiciola che supera l'inguine ricadendo sulle cosce. Lo fanno sedere per slegargli e lavargli le gambe. Come essi appaiono Marta e Maria gridano forte accennando le gambe e le fasce. E se sulle fasce strette alle gambe e sulla sindone posta sotto le fasce e gli scori putridi sono tanto abbondanti da far rivoli sulle tele, le gambe appaiono cicatrizzate affatto. Solo le cicatrici rosso-cianotiche sono ad indicare dove erano le cancrevi. La gente tutta grida più forte di stupore. Gesù sorride e sorride Lazzaro che si guarda per un attimo le gambe guarite e poi si torna ad astrarre guardando Gesù. Pare che non si possa saziare di vederlo. I giudei, farisei, sadducei, scribbi, rambi, si fanno avanti cauti per non contaminarsi le vesti. Guardano ben da vicino Lazzaro, guardano ben da vicino Gesù, ma né Lazzaro né Gesù si occupano di loro, si guardano e tutto il resto è inutile. Notare anche questi piccoli particolari di Gesù, che a questi giustamente neanche li guarda. Ecco che vengono messi i sandali a Lazzaro e gli si alza in piedi, agile, sicuro. Prende la veste che Marta gli porge, da sé se la infila, si rega la cintura, si aggiusta le pieghe. Eccolo, magro e pallido, ma uguale a tutti. Si lava ancora le mani e le braccia sino al gomito rimboccandosi le maniche. E poi con nuova acqua di nuovo il volto e il capo, sinché non si sente affatto netto. Si asciuga capelli e volto, rende l'asciugatoio al servo e va dritto a Gesù. Si prostra, gli bacia i piedi. Gesù si curva, lo rialza, lo stringe al cuore dicendogli, bentornato amico mio, la pace sia te quella gioia, vivi per compiere la tua felice sorte. Alza il tuo volto che io ti dia il bacio di saluto. E lo bacia ricambiato da Lazzaro sulle guanci. Bella questa scenetta, no? Immaginate anche questo suo, insomma, bentornato amico mio. Uno che è stato veramente immerso nell'oscurità della morte e che dopo quattro giorni ritorna. Soltanto dopo aver venerato e baciato il maestro, Lazzaro parla alle sorelle e le bacia. E poi bacia Massimino e Noemi che piangono di gioia e alcuni di quelli che credo siano imparentati con la casa o amici intimissimi. Poi bacia Giuseppe, Nicodemo, Simone Zelote e qualche altro. Gesù va personalmente da un servo che ha sulle braccia un vassoio con del cibo e prende una focaccia con del miere, una mela, una coppa di vino e le offre a Lazzaro dopo averle offerte benedette perché se ne distoria. E Lazzaro mangia col sano appetito di uno che sta bene. Tutti hanno ancora un oh di stupore. Gesù sembra che non veda che è Lazzaro, ma in realtà osserva tutto e tutti e vedendo che con gesti dira Sadoc con il Chia, Canania, Felice, Doras e Cornelio e altri stanno per allontanarsi, dice forte attendi un momento Sadoc, devo dirti una parola a te e ai tuoi. Quelli si fermano con un ceffo da delinquenti. Giuseppe Darimatea ha un atto di sgomento e fa cenno allo Zelote di trattenere Gesù. Ma egli sta già andando verso il gruppo astioso e già dice forte, ti basta Sadoc quello che hai visto? Mi hai detto un giorno che per credere avevi bisogno tu e i tuoi uguali di vedere ricomporsi un morto disfatto in sanità. Sei sazio della putredine vista? Sei capace di confessare che Lazzaro era morto e che ora è vivo e sano come non era da anni? Lo so, voi siete venuti qui a tentare costoro, a mettere in loro maggior dolore il dubbio. Voi siete venuti qui a cercarmi sperando trovarmi nascosto nella stanza del morente. Voi siete venuti qui non per sentimento di amore e desiderio di onorare l'istinto, ma per assicurarvi che Lazzaro era realmente morto e avete continuato a venire giubilando sempre di più più il tempo passava. Se le cose fossero andate come speravate, come ormai credevate che andassero, avresti avuto ragione di giubilare. L'amico che guarisce tutti, l'amico con la maiuscola, ma non guarisce l'amico con la minuscola. Il maestro che premia tutte le fedi, ma non quelle dei suoi amici di Betania. Il Messia impotente davanti alla realtà di una morte. Questo era ciò che vi dava ragione di giubilare. Ma ecco, Dio vi ha risposto. Nessun profeta ha mai potuto riunire ciò che era sfatto oltre che morto. Dio lo ha fatto. Ecco là la testimonianza viva di ciò che io sono. sentite eh? Un giorno fu che Dio prese del fango e ne fece una forma e vi alitò lo spirito vitale e l'uomo fu. Io ero a dire si faccia l'uomo a nostra immagine e somiglianza perché io sono il verbo del padre. Oggi io, verbo del padre, ho detto a ciò che ancora meno del fango, alla corruzione, vivi e la corruzione si è tornata a comporre in carne e in carne integra, viva, palpitante. Eccola là che vi guarda. E alla carne ho ricongiunto lo spirito giacente da giorni nel seno ad Abramo. L'ho richiamato col mio volere perché tutto io posso. Io il divente. Io il re dei re cui sono soggette tutte le creature e le cose. Ora Dio. Essi non rispondono. Egli incalza non vi basta ancora per credere? Per accettare l'ineluttabile? Vedete? C'ho la rosa io. Gli era detto già da qui e gli avrebbe sicuramente ripetuto il giorno della loro morte. Cento per cento. Non hai mantenuto che una parte della promessa? Dice Aspro Sadoc. Questo non è il segno di Giona. Il segno di Giona, no? Gesù risponde. Avrete anche quello. L'ho promesso e lo mantengo. Il segno di Giona è qualcosa di più grave. Perché la sua morte e la risurrezione dopo tre giorni. Come Giona listò tre giorni e tre notti nel ventre della balena così prima che il figlio dell'uomo sia tre giorni e tre notti nel ventre della terra, no? L'ho promesso e mantengo. Dice il Signore. E un altro qui presente che attende un altro segno. Ve lo dico io chi è Gamaliele. Lo avrà e poiché è un giusto lo accetterà. Ma voi no. Voi rimarrete ciò che siete. Allora figlialli miei cari, faccio un altro alt. Facciamo sempre attenzione. Dio è buono. Ma Dio non si sfida e Dio non si ride. Perché mettiamoci bene in testa una cosa, che Dio c'ha sempre ragione. Ce l'ha sempre. E il giorno verrà in cui ce lo dimostrerà che ha sempre ragione. Dio non è come noi. Dio ha i suoi tempi. Dio ha i suoi momenti. Dio attende. Non ha fretta. Ma il Redderationem arriva gli anni miei cari per tutti. questo l'aveva sfidato. E Gesù ha accettato la sfida. E l'ha vinta. Gliel'aveva detto. Qui fai riferimento. Questo tizio qui dice io crederò soltanto quando vedrò la putredine ricomporsi. ricomporsi. E Gesù l'avete visto, no? Se ne stavano andando. L'ha andato a chiamare e dice oh, se ti può, che avevi detto tu? Non ho capito bene. Ti ricordi quello che avevi detto? Sì. Hai visto bene oggi? Gesù, il grande, il mite, il buono, l'umide, il misericordioso. Però gliene ha cantato i quattro a questo qui, eh? Fa un mezzo giro su se stesso e vede Simone, il sinedrista, figlio di Eliana. Lo fissa. Lo fissa. Lascia in asso quelli di prima è giunto a viso con lui. Sentite bene, eh? Gli dice a voce bassa ma incisiva. Sentite bene. Buon per te che Lazzaro non ricordi il suo soggiorno fra i morti. Che ne hai fatto di tuo padre, o Caino? Avete capito? O ve la devo spiegare? Questo che aveva fatto. ha ammazzato il padre. Simone fugge con un grido di paura che poi si mute in urlo di maledizione. Che tu sia maledetto, Nazareno! Al che Gesù risponde? Ah, avete visto che ogni tanto Gesù risponde, eh? La tua maledizione sale al cielo e dal cielo l'altissimo te la riscaglia. Sei segnato dal marchio o sciagurato. C'era una domanda di una persona su Instagram che faceva riferimento a un episodio dei giorni scorsi di un video sul mio conto. Io penso che la risposta la sta già sentendo durante questa catechesi. le immagini di quel Gesù buonista, buonino, che sta sempre zitto, che vanno tutti in paradiso. Questo non c'è andato in paradiso, questo qui, eh? A quello che Gesù dice. La maledizione sale al cielo e dal cielo l'altissimo te la riscaglia. Sei segnato dal marchio o sciagurato. O quello che ha detto prima Sadoc. Voi rimarrete ciò che siete. Ma lo dice la maledizione di San Giovanni. E morirete nei vostri peccati. E chi muore nei peccati che fine fa? Vediamo. Chi muore nei peccati senza essersi convertito che fine fa? Basta aprire il catechismo della Chiesa Cattolica, eh? Ah, in qualunque versione, eh? Il nuovo catechismo, la versione fatta da Ratzinger a domande e risposte, il catechismo di San Pio X, il catechismo di Tridentino. Andate a vedere che fine fa una persona che muore nei propri peccati senza pentirsi. Non ascoltate Don Donardo. Don Donardo è un prete a quanto pare tridentino, medievale, che terrorizza le persone, ma non dovete ascoltarlo. Ascoltate la Chiesa. Non Don Leonardo. Don Leonardo non deve essere ascoltato. Mai. Se Don Leonardo parla a nome di Cristo e della Chiesa, ascoltatelo. Don Leonardo, Don Nicolo, chi per lui? Se no, non dovete ascoltarlo. Ve lo dico io. Per nessun motivo. Ve lo dico io. anzi, segnalatelo, d'accordo? Questo è un prete che non sta parlando a nome di Cristo e della Chiesa. Qualcuno lo scomuniti, per favore. Segnalo. Ve lo dico io. se dovessi impazzirmi in questo modo qui. Torna indietro fra i gruppi stupiti, spaventati quasi. Incontra Gamaliele, quello a cui faceva riferimento. Quest'altro avrà il segno che cerca e lo accoglierà perché è un giusto. Gamaliele, quello che negli atti degli apostoli è l'unico a dire a quei pazzi furiosi che dopo aver fatto fuori Gesù se ne stavano scagliando contro gli apostoli. Datevi una calmata, perché se questa fede viene da Dio, noi ci stiamo mettendo contro il Padre Eterno. Fatela finita. Guarda lui e Gesù gli dice senza fermarsi stai pronto Rambi il segno verrà presto non mento mai. Ce n'ha pure per lui. Questo è il giorno è un re derazione nella vita di Gesù. Si è tolto un pochino di ma non per il gusto di togliersi i sassolini ma per giustizia. Per giustizia. Il giardino si svuota lentamente i giudei sono sbalorditi ma i più sprizzano ira da ogni poro. Capite? Gli ha risuscitato Lazzaro davanti agli occhi e questi sprizzano ira. Capite? Il dramma il dramma il dramma degli inconvertibili che esistono cioè nella vicenda di Gesù si vedono ho detto i salmi imprecatori che sono spariti adesso dalla nuova versione della liturgia delle ore ce ne sono due il salmo 57 e il salmo 108 che lanciano gli accidenti contro gli empi e contro i nemici di Dio a chi si riferiscono? Quelli sono parola di Dio non si possono mettere nel dimenticatoio a questi soggetti agli inconvertibili certo noi sulla terra non possiamo sapere con certezza chi sono e quindi dobbiamo sempre pregare per la conversione di tutti ma quelli sono inconvertibili cioè Dio lo sa benissimo chi sono gli inconvertibili anche qui anche se lui agisce come se non lo sapesse cioè che fino all'ultimo istante dà la possibilità a chiunque di potersi convertire come ha fatto anche con Giude agito come se non lo sapesse che era spacciato pur sapendolo i giudei sono sbalorditi ma i più spizionieri ad ogni poro sentite l'ironia di Maria Valtorta se gli sguardi potessero incenerire Gesù sarebbe da molto polverizzato parlano discutono fra loro andandosi così ormai sconvolti dalla sconfitta avuta da non saper più celare sotto un'ippocrita apparenza di amicizia lo scopo della loro presenza qui se ne vanno senza salutare né le sorelle capito che è successo qui qui si è come tutta una guerra non è un modo di dire sconvolti dalla sconfitta avuta si è combattuto una guerra a Betania e ha vinto Gesù perché le guerre le vince sempre l'Altissimo lui non perde mai e questi se ne vanno con la coda tra le gambe si poi sputeranno veleno e faranno i diavoli a quattro e Gesù li lascerà fare perché attenzione siamo entrando in una settimana santa sì Gesù lo hanno ammazzato ma perché si è fatto ammazzare attenzione perché ha permesso per la nostra redenzione restano indietro alcuni che sono conquistati al Signore dal miracolo fra questi fra questi è Giuseppe e Barnaba che si getta in ginocchio davanti a Gesù e lo adora un altro lo scrive a Gioele di Abbia che fa la stessa cosa prima di partire a sua volta e altri ancora che non conosco ma che devono essere influenti Lazzaro intanto circondato dai suoi più intimi si è ritirato in casa Giuseppe Nicodemo e gli altri buoni salutano Gesù e se ne vanno partono con profondi saluti i giudei che stavano presso Marte e Maria i servi chiudono il cancello la casa torna in pace Gesù guarda intorno vede fumare e rosseggiare in fondo al giardino là verso il sepolcro Gesù solo ritto in mezzo ad un sentiero dice la putredine che viene annullato dal fuoco sentite la putredine della morte ma quella dei cuori di quei cuori sentite bene nessun fuoco la annullerà neppure il fuoco dell'inferno attenzione cosa ha detto Gesù ha detto che questi andranno all'inferno mamma mia e se lo sentissero certi suoi ministri attuali penso che resterebbero scandalizzati i suoi ministri neppure il fuoco dell'inferno sarà eterna che orrore più della morte più della corruzione ma chi ti salverà o umanità se tanto ami essere corrotta e attenzione a quello che dice vuoi essere corrotta ricordiamo bene vuoi essere corrotta questo vale per tutti i peccatori noi non possiamo fare i psicologismi e ne dare la colpa al diavolo delle nostre cose leggete i libri degli esorcisti il diavolo sapete che dice voi date sempre la colpa a me io faccio il mio lavoro ma io non posso nulla se la vostra volontà mi resiste e non mi dice amen io non posso farvi niente chiaro questo qui ce le portiamo dietro le ferite le cose tutto quello che volete certo la nostra libertà adesso è situata è condizionata ma rimane e noi siamo responsabili delle nostre azioni e dobbiamo sempre ricordare sempre ricordare che noi possiamo ingannare gli uomini noi possiamo fare furbetti con chi ci pare possiamo fare le sfingi possiamo celare i nostri pensieri i nostri sentimenti reali possiamo fare tutto quello che vogliamo possiamo farlo ma davanti a Dio no eh ci piace ingannare gli uomini sei contento? accomodati pure c'è gente poverina che ama fare le belle figure davanti agli uomini compresi i ministri di Dio e invece dentro c'è putrefazione come qui ben nascosta ovviamente vuoi fare così? va contento tu contenti tutti vale la pena? e che gli racconti poi al nostro signore quando vai davanti a lui sei capace di fare uno screening sul tuo cuore sui tuoi pensieri sui tuoi desideri sulla tua volontà o no? chi ti salverà umanità se tanto ami essere corrotta? vuoi essere corrotta dice Gesù e io io ho strappato al sepolcro un uomo con una parola e con un mare di parole e un mare di dolori non potrò strappare al peccato l'uomo gli uomini milioni di uomini quindi domanda ironica Gesù sta forse dicendo che l'inferno è vuoto o che ci andranno milioni di uomini all'inferno non qualcuno milioni perché nonostante tutto quello che lui ha fatto parole opere e mari infiniti di tutti i dolori questi non si vogliono convertire non si vogliono convertire e non si convertono se non si vogliono convertire si siede e si copre il volto con le mani accasciato sono scene da contemplare specialmente questi giorni lo vede un servo che passa andiamo verso la conclusione ci sarà un secondo round perché dopo qui si fanno una chiacchierata entrano in casa e c'è una chiacchierata molto edificante tra Gesù e Lanzaro però evidentemente non facciamo un tempo adesso appesantiremmo troppo la catechesi siamo già a 54 minuti effettivi di catechesi e dobbiamo metterci pronto comunque arrivo appunto al capoverso proprio alle soglie dell'ingresso a casa e poi ci fermiamo lo vede un servo che passa va in casa dopo poco esce di casa Maria va da Gesù leggera come non toccassi il suolo la vicina dice piano rabbi sei stanco vieni mio signore i tuoi apostoli stanchi sono andati nell'altra casa tutti meno signore lo sviluppo piangi maestro perché si ginocchia ai piedi di Gesù l'osserva Gesù la guarda non risponde si alza e si dirige verso la casa seguito da Maria lui non risponde ma noi penso che possiamo rispondere a rischio di quello che abbiamo appena sentito no Maria non l'abbia sentito queste cose perché stava in casa perché piange Gesù piange per i milioni di uomini che se ne vanno all'inferno come ci piange la Madonna per queste cose qui e che ci vanno all'inferno perché ci sono voluti andare inibendo e rendendo inutili e vani tutte le fatiche le opere le parole i dolori fatti dal figlio di Dio i segni fatti dal figlio di Dio ho fatto uomo per salvare e quanti ce ne stanno ancora e quanti ce ne stanno ancora bene la prossima volta vedremo la conclusione di questo avvincente emozionante episodio con il dialogo che dentro casa seguirà tra Gesù Lazzaro e le sue sorelle Dio vi benedica figlio di Dicare la Santa Vergine sempre di ipotega una santa notte a chi ha seguito la diretta laudentur e su sete mani di Dio di Dio